Cuore caldo al pistacchio. Vediamo insieme come realizzare. Prima cosa mettiamo in una ciotola un uovo. A seguire aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e quindi mescolate con una frusta a mano. Unire un cucchiaio colmo di crema spalmabile al pistacchio e infine un cucchiaio di farina doppio zero. Mescolate sempre gli ingredienti con la frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. Trasferite il composto nei pirottini imburrati ed infarinati. Ne escono due con questa dose. Io ho voluto provare. Adesso trasferite i pirottini nel congelatore per un paio d'ore. Trasferite i pirottini nel cestello della frigitrice ad aria. Dovete cuocerli a 200 gradi per 6 minuti. Questo è il risultato finale. Li adagiate nei piattini e poi li decorate con della granella di pistacchio e zucchero a velo. Sopra la superficie. Una vera bontà. Guardate che consistenza. Cremosissimi. Spero che questa videoricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio e alla prossima. Un bacio.